La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Catania, nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura Distrettuale della Repubblica, a seguito dell'arrivo della nave della Guardia Costiera 18 al porto di Catania, con a bordo oltre 1.400 migranti di varie nazionalità soccorsi in sé e distinte operazioni, hanno posto in stato di fermo di indiziato di delitto un giovane nigeriano, in quanto gravemente indiziato del reato di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Nell'ambito delle indagini avviate, sotto il coordinamento della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, da personale della squadra mobile, sezione criminalità straniera e prostituzione, e da militari del locale comando provinciale della Guardia di Finanza, è emerso dalle dichiarazioni rese da alcuni testimoni che il nigeriano avrebbe collaborato con trafficanti libici, svolgendo attività di sorveglianza e controllo dei migranti durante la loro permanenza nella safe house in Libia. In particolare, alcuni testimoni avrebbero dichiarato che trafficanti libici li avrebbero costretti a prestare la loro mano d'opera gratuita per la realizzazione di opere di edilizia, specificando che durante le giornate lavorative sarebbero stati ripetutamente picchiati ed avrebbero assistito alle violenze perpetrate dal giovane nigeriano anche nei confronti di altri migranti presi a bastonate e cinghiate. Espletate le formalità di rito, il fermato è stato portato presso la casa circondariale di Catania e Piazza Lanza a disposizione dell'autorità giudiziaria.